Musica Cari amici di Sei a casa, ben ritrovati, benvenuti ad una nuova puntata. Come vedete ho un parterre di ospiti oggi pomeriggio qui con me, loro sono i responsabili della fondazione La Piletta Onlus. Oggi vi racconteremo la storia di questa fondazione e soprattutto i progetti e qual è la filosofia. Insomma lo scopo principale comunque è quello di sostenere la crescita e lo sviluppo delle persone disabili attraverso attività di vario tipo che vi racconteremo insieme. Allora vi vado subito a presentare i nostri ospiti partendo da Alessandro Zeno, socio fondatore e presidente della fondazione La Piletta Onlus. Benvenuto. Grazie. Con noi anche Irene Patschaider, socia fondatrice ed educatrice della fondazione. E con noi anche Nadia Puggia, in rappresentanza dei volontari della fondazione La Piletta Onlus e responsabile di un progetto insomma futuro. Allora partiamo subito dal nostro Alessandro raccontandoci quando è nata l'associazione, la fondazione scusi anzi, e quali sono gli scopi principali. Grazie, sì. La fondazione è nata otto anni fa e nasce con l'intenzione di promuovere da parte di operatori molto qualificati nel settore della disabilità, della medicina, dell'agricoltura e dell'insegnamento. Si propone di realizzare una struttura dove ci sia la possibilità di mettere al centro le attività con la disabilità, in particolare di valorizzare le singole personalità, le singole persone, attivando dei percorsi che vanno incontro alle loro caratteristiche, le loro qualità, un percorso che può portare a maggiore autostima, a maggiore autonomia, anche a percorsi occupazionali attraverso varie forme di interazione con le attività o di agricoltura o di artigianato e magari anche di agricoltura e di agriturismo. E quindi questo è, diciamo, l'obiettivo, la mission della fondazione. Il luogo dove contiamo di promuovere questo progetto è a Povegliano Veronese, è una corte agricola in mezzo ai campi, in una situazione naturalistica anche molto felice, che però va sviluppata e l'idea è, visto che la corte è in gran parte in stato di abbandono, quella di riuscire attraverso tutto un progetto di crowdfunding e anche di altre forme di appoggio, dal volontariato al sostegno economico comunque, di trovare il capitale necessario per finire di acquistare questa corte e per ristrutturarla in maniera che sia fruibile per questi progetti. Questa è la parte centrale. Ci sono delle altre idee che sono alla base di questo progetto della fondazione, dove, per esempio, il fatto di avere, di interagire con un progetto di fattoria sociale permetterà anche di sviluppare tutte le attività connesse a una fattoria sociale, di trasformazione e così via. Ed eventualmente anche quella di un agriturismo. E l'agriturismo, in prospettiva, è anche una maniera per avere un rapporto, un respiro con il territorio, in maniera che non sia una realtà separata e isolata, ma che ci sia un continuo flusso di persone, anche di interessi, di attività, anche culturali. Coinvolgimento. Coinvolgimento culturale, musicale e così via. Questo è in nuce il progetto e l'idea è quella di, dopo otto anni, riuscire ad andare ancora avanti con questo progetto. Insomma, dal 2013 ad ora comunque avete già fatto degli ottimi passi avanti, perché so che nel 2013 siete riusciti ad acquistare una piccola parte della corte, giusto? Poi avete realizzato dei lavori e adesso, insomma, dobbiamo concretizzare del tutto l'acquisto e riuscire a rendere questa cascina, insomma, questa corte agricola, davvero operativa e accogliente per i ragazzi che accogliete. Sì, è importante anche segnalare il fatto che la fondazione, diciamo, è composta da operatori molto qualificati, però è stata sostenuta fin dall'inizio da famiglie che credevano, credono in questo progetto, famiglie con ragazzi, ragazze disabili e quindi c'è questo sostegno sia dei volontari e sia anche delle famiglie. Insomma, un sostegno davvero prezioso. A tal proposito, dato che li abbiamo citati, passo la parola a Nadia. Tu sei volontaria della fondazione, come ci si avvicina a questo genere di attività? Allora, sono volontaria da circa un anno, quasi ormai, e devo dire che è stata la fondazione ad avvicinarsi a me, nel senso, anche se era nel mio territorio, perché io sono di Povegliano, non l'avevo mai sentita nominare. E' successo che tramite una serie di contatti, così, ci siamo conosciuti, mi è stato presentato il progetto, mi è stato presentato, insomma, quello che voleva essere l'idea futura, ecco, di questa fondazione, e mi ci sono innamorata subito, chiaramente, perché avendo fatto studi... Ti sei immersa subito in questa realtà. Certo, mi hanno coinvolto soprattutto per il progetto di fare questa fattoria sociale improntata sulla coltivazione di piante ufficinali. Perché diciamo che tu sei specializzata in... Esatto, sono laureata in tecniche erboristiche, quindi, cioè, ci cadevo a fagiola. E, appunto, ho accolto subito l'idea, lanciata in pieno, perché è un'idea innovativa, nel senso, intanto, una fattoria sociale è comunque qualcosa che apre a più possibilità, sia per chi fa il volontario, chi verrà poi a far parte di questa fattoria, e soprattutto le piante ufficinali, perché si può fare, diciamo, un escursus dell'intera filiera, appunto, dell'agricoltura, poi soprattutto la trasformazione delle piante ufficinali, insomma, una serie di laboratori che possono coinvolgere in diversi modi più persone, con le loro peculiarità, con le loro capacità, in diversi momenti dell'intera filiera. E quindi... Irene, prima di iniziare, insomma, la nostra puntata, mi ha dato uno spunto molto importante. Diceva, la persona ha il centro di tutto, e questo è fondamentale, ma poi anche l'obiettivo è quello di valorizzare le abilità residue delle persone, insomma, che si avvicinano e che hanno bisogno del vostro supporto. È un concetto contrario rispetto a quello che si sente di solito. Io sono una socia fondatrice perché fin dal principio il gruppo che ha, in qualche maniera, risposto ad una esplicita richiesta da parte di famiglie di poter realizzare una risposta ai bisogni dei propri figli, è stato incentrato soprattutto su questo principio, poter valorizzare le abilità dei propri figli, uscendo un po' da questo concetto che ci appisantisce un po' nel lavorare nel sociale, che è quello di puntare sempre sulla disabilità. Sui limiti, è vero, invece qui c'è uno sguardo diverso. E' proprio questo cambio di mentalità, oltretutto nel cambio di mentalità, io ci lavoro da decenni proprio a supporto dei progetti di vita indipendente, per cui nella fondazione ho visto proprio un ulteriore, nuovo respiro, proprio per poter mettere al centro la persona, ma la persona anche se portatore di qualche disabilità, non concentrandoci sulla disabilità, ma volgendo lo sguardo alle abilità residue che ciascuna persona ha. Per quanto minime, per quanto non immediatamente visibili, ma ci sono. Poter lavorare ad un progetto che promuove le abilità delle persone mi ha, fin dal principio, proprio mosso con entusiasmo. Dopo otto anni siamo ancora qua, che stiamo cercando di riportare a termine, realizzando appunto questa idea di risposta al bisogno della persona. Insomma, è una visuale davvero molto positiva. E ora ci guardiamo. Il vostro spot promozionale, insomma, della fondazione, perché ci sono proprio due protagonisti, che sono due ragazzi che fanno parte della fondazione. Sono due persone che hanno appunto una vita indipendente come, come dire, progetto di risposta ai propri bisogni. Sono autogestiti, autodeterminati, giovani e pieni. Adesso li vediamo insieme. Allora, vediamo la presentazione della piletta onlus. Alla piletta puoi vedere il martintescatore, l'airone, il falco, il tettirosso e sentire le allodole e gli usignoli. Campi tutti intorno, un frutteto, montagne sullo sfondo, corsi d'acqua, fiori spontanei, farfalle e api. I promotori e fondatori del progetto La Piletta vogliono condividere questo luogo con la gente e incontrare e accogliere con la trottore professionalità, soprattutto coloro che sono in difficoltà. Il gruppo dei fondatori, i volontari e le famiglie della Pineta Onlus intendono creare spazi per persone con disabilità da condividere mediante l'arte, il lavoro e la socializzazione, con lo scopo di far emergere le abilità che ciascuno ha. C'è una vecchia corte con grandi edifici che attendono solo di essere sistemati e di ritrendere vita. Una casetta già ristrutturata è la nostra base di partenza. Si è in mezzo ai campi ma c'è la calma e l'ambiente giusto che aiuta ad ascoltare e a parlare con chi è vicino, giovani e meno giovani, per dare risposta alle necessità speciali di ognuno. Volontari, con tante esperienze e competenza, famiglie e amici stanno dando una mano perché il progetto dell'Apiletta possa crescere. All'Apiletta si cerca non solo di valorizzare le bellezze della natura e di ogni singola persona, ma anche di creare cose belle attraverso attività e laboratori artistici e artigianali. All'Apiletta si è in contatto con la terra e gli agricoltori. Si possono seguire le varie fasi di un processo di lavorazione produttivo ed economico fondamentale. All'Apiletta si coltivano con metodo biologico erbe che curano e risanano. Si offrono corsi per comprendere e conservare le piante e le loro proprietà, laboratori artistici e di fitoterapia. Ambiente naturale, arte e terapia, incontro con l'altro, attività agricole e fitoterapia sono chiavi per trovare un senso nel mondo e nella vita. Ed eccoci di nuovo in studio. Vi lasciamo per qualche minuto di pubblicità ma rimanete fermi davanti alla tv, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo insieme. Insomma, se ci avete seguito nella prima parte della puntata, avete capito, vi stiamo raccontando di una fondazione, la Piletta Onlus, che si occupa di persone con disabilità, con uno sguardo diverso, però con la voglia di valorizzare le abilità residue di questi ragazzi. Abbiamo visto una presentazione fantastica in cui i protagonisti, li salutiamo, sono Valentina e Mattia. Diceva Irene, due ragazzi che sono totalmente autonomi e indipendenti. Loro gestiscono il proprio bisogno assistenziale attraverso il progetto di vita indipendente. Il progetto di vita indipendente è una reale possibilità di autogestione della propria assistenza. Quindi anche in questo caso la persona, anche se con le difficoltà della disabilità, riprende in mano la propria vita. si autodetermina, sceglie e decide con chi passare il proprio tempo e da chi anche ricevere l'assistenza di cui ha bisogno. Per cui è proprio anche qui un cambio di mentalità. Non è un servizio o un ente che decide quale persona si occuperà di te, ma è la persona stessa che può scegliere questo. Ed è quindi sostenuto economicamente dalla Regione. Adesso i progetti di vita indipendente sono finanziati attraverso l'impegnativa di cura. Però il principio non cambia. È la persona al centro che si autodetermina e decide come gestire i propri bisogni. Quindi torna al centro e diventa non solo persona che riceve, ma diventa in questo caso addirittura un datore di lavoro. Assumano in maniera diretta il proprio assistente. Per cui si torna attivi nella propria vita e non passivi, solo riceventi cure. Questo è... Penso sia fondamentale sentirsi attivi e utili. Sì, aggiungo giusto un ulteriore concetto che vita indipendente non significa devo vivere da solo. Sono ragazzi giovani, ad esempio nel caso di Valentina e Mattia, vivono comunque nella famiglia, ma non gravano totalmente sulle cure della famiglia, perché hanno la possibilità e la capacità di autogestione dei propri bisogni. Abbiamo visto la vostra sede, questa bellissima corte agricola che si trova a Povegliano in mezzo alla natura. Abbiamo detto, insomma, sono già stati fatti dei buoni passi, però il progetto deve essere concluso. Serve l'aiuto di tutti voi. C'è un nuovo investimento, una parte dell'investimento da fare, che è di circa 150 mila euro, se non sbaglio, giusto? E avete attivato una raccolta fondi su buonacausa.org. Ci raccontate un pochino come funziona e come vi possono aiutare i nostri spettatori da casa. Sì, il sostegno che si può dare alla fondazione è realizzabile in varie maniere, attraverso il volontariato, attraverso un sostegno economico, in particolare quello del crowdfunding è il più pratico, il più comodo, perché basta andare sul nostro sito, la piletta.org e lì uno trova subito le indicazioni per poter pagare direttamente attraverso questa piattaforma di crowdfunding, quindi senza andare in banca per bonifici, eccetera. Si fa tutto online. Si fa tutto online e questa è una grossa comodità. e soprattutto si può anche versare delle somme minime, si può anche dare 10 euro, 50 euro, comeppure se uno ha la possibilità e crede nel progetto anche di dare delle cifre più consistenti. Ecco, fino adesso i nostri tentativi di essere finanziati anche da altri enti, altre fondazioni, insomma sono stati piuttosto travagliati, per cui abbiamo finora fatto affidamento esclusivamente sulle nostre forze, su donazioni di privati e sul lavoro preziosissimo di volontari che hanno sistemato, stanno sistemando le... Insomma sul buon cuore della gente comune. Esatto, esatto. E poi agricoltori intorno che ci aiutano quando abbiamo bisogno del trattore o di spostare delle cose, eccetera. e quindi c'è anche questo... a volte la necessità ci obbliga ad avere un rapporto col territorio e questo ci permette anche di essere più conosciuti. Come cambia la vita quando si diventa volontari? La vita cambia, nel senso che si ha comunque la coscienza di aver preso un impegno per qualcun altro e anche per se stessi perché fare volontari ti apre proprio a un'altra visione. Nel senso non sei tu che fai le tue cose per te stesso ma le fai per gli altri. Quindi qualsiasi cosa dal tempo che si dedica al lavoro proprio fisico, manuale che ci si mette, soprattutto alla piletta perché lì c'è da lavorare. Bisogna sporcarsi un po' le mani. C'è molto da sporcarsi le mani, esatto. C'è da rimboccarsi le maniche e da fare. E questo prende una buona parte della propria giornata, diciamo, quando ci si dedica. Diciamo che nel volontariato si dona il proprio tempo. Ovviamente anche le proprie abilità però principalmente il proprio tempo che insomma sappiamo è prezioso ed è bello quando viene dedicato agli altri. Stiamo vedendo ancora delle immagini bellissime. Quanto è importante per questi ragazzi il contatto con la natura e con la terra? Dunque, io mi sono occupato per anni di attività di sostegno nell'ambito scolastico e direi che tutta una serie di aspetti di nervosismo, di inquietudine vengono risolti con questo contatto con la natura, con gli elementi della natura e anche perché la natura offre tantissime occasioni di attività che a una persona basta che trovi la voglia di fare e trova subito gli ambiti dove dare questo suo contributo e anche ricevere la gratificazione per quello che fa. Quindi è molto importante al di là della quiete, al di là del contatto con la natura questo aspetto naturalistico che noi vorremmo sviluppare e incentivare nella zona di Povegliano. Quali sono i progetti per questo 2017 che avete insomma in cantiere? Ce ne sono un bel po' e c'è Nadia che ci sta lavorando insieme a Elena che è un'altra nostra volontaria e stanno mettendo veramente in piedi un bel calendario. Esatto, stiamo mettendo in calendario un po' di eventi aperti a tutti che spaziano dalla giornata di Pasquetta alla giornata del primo maggio. Su tutti gli eventi insomma raccogliamo un po' tutte quelle situazioni di festa, di condivisione per aprire proprio la piletta e per far conoscere avendo uno degli spazi meravigliosi da poter utilizzare e due insomma proprio per far conoscere di più questa realtà. E quindi abbiamo appunto io e Elena Chittoni, l'altra volontaria entrata quest'anno con me, portare proprio queste nuove iniziative che non sono riservate ecco a solo il mondo della disabilità, sono aperte a tutti. Aperte a tutti per far conoscere appunto questa realtà, far vedere la vostra fantastica location e magari qualcuno può anche essere stimolato per aiutarvi o come volontario o chissà insomma con delle donazioni. Allora ricordiamo i vostri contatti perché siete presenti su tutti i social praticamente. Ricordiamo il vostro sito internet, la piletta.org, poi avete anche un canale YouTube, una pagina Facebook e un canale Twitter, quindi davvero super presenti e attivi. Il nostro esperto in tutto quello che riguarda la multimedialità è Riccardo Cavallara, anche lui è un progetto di vita indipendente, persona laureato in informatica con una grave disabilità ma con delle abilità strepitose perché tutto quello che vedete sui canali multimediali è l'opera sua. Grazie mille per essere stati con me oggi, grazie per averci raccontato della fondazione La Piletta, di questa fantastica realtà su Povegliano, in bocca al lupo per i vostri progetti, magari prossimamente ci ritroviamo e speriamo di poter raccontare insomma della ristrutturazione completa della vostra corte agricola. Grazie a tutti voi per averci seguito numerosi, se a casa torna domani rimanete sintonizzati su Telearena. Buon prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.